Due volte il tempo, Chiellini, Padoin, pallone per Romulo, Romulo destra, bella azione questa della Juventus, il pallone in mezzo, attenzione a Mattiello, a Vitale, Vitale la rimette, Pereira, fa il rete, la Juventus è in avvantaggio con la rete di Roberto Pereira, al minuto numero 43 si sblocca il punteggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Roberto Pereira, Juventus 1, Sassuolo 0, Gli applausi del pubblico di Fede Bianconera per Roberto Pereira, un colpo da miliardo all'angolino, nulla da fare per Ciro Polito, adesso andremo a rivedere il capolato di vantaggio la Juventus, tutto lato prima dalla destra, pallone in mezzo, Vitale, l'ha messo in mezzo, mischia pasticcio di Magnanelli e per Pereira, è un gioco da ragazzi, metterla all'angolino, secondo gol consecutivo